Ciao ricordi, bentornati in questo nuovo video! In questo video vi toglierò tutti i dubbi che avete sul tour di una di voi. Sì, finalmente ho questo libro tra le mie mani, è un'emozione unica ed è solo grazie a voi, quindi grazie mille per tutto. Prima di iniziare però vi volevo parlare del journal di Rikki. A parte che è bello già solo guardando la copertina, quindi, cioè, adoro. Dentro è molto molto interessante perché ci sono varie frasi delle canzoni che fa Rikki, che io adoro. Fatemi sapere se a voi piacciono o no, io ne sono innamorata delle sue canzoni. Varie foto stupende, fatte benissimo, molto divertenti, davvero belle. E poi ci sono anche dei giochini, se possiamo chiamarli così. Ad esempio, questo riguarda l'amicizia e sapete quanto io tenga la parola amicizia. Ci sono le sue risposte scritte in penna, diciamo, e poi qua voi potete rispondere. Cosa faccio per essere un buon amico, cosa conto di più in amicizia, insomma, queste cose qua, bellissime. E anche dei testi più lunghi, non solo delle frasi, delle sue canzoni. Secondo me è un'idea stupenda, è un journal bellissimo e ve lo consiglio. Fatemi sapere qui sotto in un commento se ce l'avete già. E se non ce l'avete ancora, vi semplifico la vita, vi basta andare nell'info box e troverete un link dove potete vedere tutti i posti più vicini a voi dove vendono questo Ricky Journal che si può trovare in tutte le edicole, librerie e cartolerie. Adesso iniziamo col video. Tra poco, tra meno di una settimana, ovvero il 24 febbraio, inizierà una di voi in tour. Mi sarei mai aspettata di arrivare fino a questo punto, di fare un tour per il nostro libro? Perché sì, questo non è il mio libro, è il nostro libro. Ricordatevelo, perché senza di voi nulla di questo sarebbe accaduto e questo è anche vostro, quindi il nostro libro. E soprattutto non mi sarei mai aspettata di essere continuamente prima in classifica nei libri bestseller di Amazon. È un'emozione grandissima. Tra l'altro, se vi va di preordinare una di voi, mancano solo due giorni, perché dal 20 febbraio sarà in tutte le librerie d'Italia e questa cosa mi fa davvero emozionare, Vi lascio il link di Amazon, di IBS, insomma di un po' di siti, nell'info box dove potete preordinarli. Nello scorso video vi ho annunciato le prime date dei firmacopie. Tranquilli, perché se in quelle date non c'è la vostra città, sono solo le prime, ce ne saranno tantissime altre, quindi non vi preoccupate. Però c'è stato un cambiamento importante che chi non mi segue su Instagram non sa, mentre su Instagram vi aggiorno giornalmente sulle novità. Le due date della Sicilia, del 7 e dell'8 aprile, sono state invertite. Quindi il 7 aprile sarò a Palermo, mentre l'8 aprile sarò a Catania. In ogni caso, per maggiori informazioni, trovate tutte le prime date che vi ho annunciato fino adesso nell'info box, così potete leggerle tutte. Nello scorso video vi ho anche detto che il 17 marzo sarei stata all'Ocean di Napoli. Molte persone di Napoli mi hanno detto che ci sono tanti a Ocean a Napoli. Quindi ho chiesto dove fosse il mio firmacopie e mi hanno detto che sarà in via Argine. Comunque ve lo scrivo anche sotto nell'info box. Ora vi parlo di altre informazioni che mi state chiedendo in tantissimi. I firmacopie sono tutti gratuiti, non si paga, quindi potete venire senza pagare assolutamente. Basta solo che voi portiate il vostro libro, così ve lo posso firmare e possiamo vederci e abbracciarci. Che, ripeto, si troverà in tutte le librerie d'Italia dal 20 febbraio, quindi meno 2. Tranquilli, perché a tutti i firmacopie io non me ne andrò via finché non avrò abbracciato l'ultima persona rimasta. Anche a costo di fare l'una, le due non mi interessa, io sto lì e vi abbraccio tutti, quindi state tranquilli che ci abbraccieremo. Le foto le fa un fotografo ufficiale del posto, ma potrete anche scattare i selfie. Mentre i musicali sono una cosa troppo lunga da fare, quindi se io facessi un musicali con ogni persona non finiremmo più. Quindi non si può fare un musicali singolo, ma io a ogni firmacopie farò un musicali tutti insieme. Un'altra cosa che mi chiedete tantissimo è, Iris, che cosa posso portarti ai firmacopie Iris? Che cosa vuoi per regalo? Assolutamente nulla. Io vi prego davvero dal cuore di non portarmi nulla, perché non ho bisogno di nulla, quindi vi prego, vi supplico di ascoltarmi. Fatemi questo grande favore. Grazie mille a chi non mi porterà nulla, perché il regalo più grande che voi possiate farmi, anzi l'unico e il più importante, è la vostra presenza. È esserci, è abbracciarmi. Solo questo, non voglio nient'altro, quindi vi prego non portate nulla. Nei cartelloni, nei regali, nulla, state tranquilli. Una cosa che non vi ho ancora annunciato e che vi annuncerò entro il primo firmacopie del 24 febbraio su Instagram, quindi seguitemi su Instagram e state tanto a chi vi, perché è una mega sorpresa, è che in ogni firmacopie ci sarà qualcosa che... Non posso dirvi ancora nulla, state attivi su Instagram e lo scoprirete. Questo era il video, spero tanto che vi sia stato utile e non vedo l'ora di incontrarvi tutti. Siete la parte più bella della mia vita, siete fondamentali per me e io non vi ringrazierò mai abbastanza per tutto l'affetto che mi state dando. Non vedo l'ora che anche voi possiate avere una di voi nelle vostre mani. Meno due, mancano due giorni. Io non ci credo, è un'emozione grandissima. Il 20 febbraio il nostro libro sarà in tutte le librerie d'Italia. Spero tanto che voi possiate emozionarvi, che vi possa piacere. Poi fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate, perché ci tengo tanto. Per qualunque altra informazione guardate l'info box. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su per farmelo sapere. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché non c'è motivo per non farlo. Io vi mando un grosso bacio, vi ringrazio ancora per tutto e ci vediamo al prossimo video. Meno due, ciao!